Si sono svolti in piazza San Pietro a Roma i funerali di Papa Benedetto XVI, presenti alle esequie 50.000 persone. Sul Covid, dati parziali e inaffidabili, l'OMS alla Cina, epidemia più grave e diffusa, urge trasparenza su ricoveri e decessi. Manifestazione in Georgia per la scarcerazione dell'ex presidente Mikhail Saakashvili, detenuto in condizioni di salute giudicate precarie. Si sono svolti in Vaticano i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI. In migliaia hanno presenziato alla cerimonia in piazza San Pietro a Roma, presieduta da Papa Francesco. Presenti tra gli altri la presidente del Consiglio Italiana, Giorgia Meloni, e la regina Sofia di Spagna. Durante l'omelia, Papa Francesco ha scelto di non soffermarsi sull'eredità specifica di Benedetto, proponendo invece una meditazione su Gesù e sulla sua disponibilità ad affidarsi alla volontà di Dio. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua giuia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Durante la cerimonia, l'arcivescovo Georg Genschwein, segretario personale di Papa Benedetto XVI, ha deposto sulla sua bara un Vangelo aperto. Benedetto, che è stato il primo Papa della storia recente a ritirarsi dall'incarico, è morto a Capodanno. Ratzinger sarà sepolto nelle grotte vaticane, al di sotto della Basilica di San Pietro. Esequi quasi da Papa regnante, non da Papa emerito, così si è mosso il Vaticano per i funerali di Papa Benedetto XVI, che sono stati celebrati qui in Piazza San Pietro da Papa Francesco, il quale davanti ad una folla di circa 100.000 persone ha voluto omaggiare il suo predecessore durante l'Omelia e poi al termine della Messa, proprio sul Sagrato della Basilica. Come sappiamo a partecipare alla cerimonia ci sono stati rappresentanti delle famiglie reali europee, così come delegazioni ufficiali sia dalla Germania che qui dall'Italia, presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La sepoltura in forma privata è avvenuta all'interno della Basilica, nella stessa cripta che era stata scelta inizialmente da Papa Giovanni Paolo II nel 2005. Giorgia Orlandi, Euronews, città del Vaticano. Troppo ristretta la definizione data dalla Cina ai decessi legati al Covid. I suoi dati sottorappresentano la portata dell'epidemia. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'appello a Pechino. Serve più trasparenza sul reale impatto in termini di ricoveri ospedalieri, accessi in terapia intensiva e soprattutto decessi. Da qui anche il sostegno alle raccomandazioni sposate ieri da Bruxelles, fortemente incoraggiata la richiesta di un test negativo ai viaggiatori in provenienza dalla Cina. Torniamo a sollecitare alla Cina dati più rapidi, regolari e affidabili, nonché un più completo sequenziamento virale in tempo reale. A causa della sua trasmissione intensa in diverse parti del mondo e di una variante che si diffonde rapidamente, siamo davvero preoccupati per l'attuale quadro epidemiologico del Covid-19. Oggetto di critiche e perplessità, soprattutto la nuova metodologia di Pechino, che inserisce nelle statistiche i soli decessi direttamente imputabili e insufficienza respiratoria legata al Covid. Da qui numeri ufficialmente in calo, nonostante la fiammata di contagi seguita allo stop a inizio dicembre di più drastiche misure di contenimento. Questa è Zladibor, nella Serbia occidentale, una località sciistica solitamente molto frequentata. I turisti venuti per sciare resteranno delusi. In tutto il paese, infatti, le temperature sono troppo elevate. Il 30, il 31 dicembre e il 1 gennaio il termometro è arrivato fino a 18 gradi a Belgrado. La Bosnia ha ospitato i giochi olimpici invernali nel 1984. Oggi, invece, le piste da sci sono asciutte. Le temperature eccezionalmente elevate hanno spinto le autorità a considerare la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza naturale. In questa stazione sciistica nel centro della Bosnia, i turisti preparano l'attrezzatura da sci, ma sul terreno nessuna traccia di neve. In questa foresta nel sud dell'Austria, gli alberi stanno già germoiando. La natura si adatta alle alte temperature, con il rischio che la flora e la fauna si trovino in difesa nel caso di un gelo tardivo. In diversi paesi europei, il Capodanno 2023 è stata la giornata più calda mai registrata nel mese di gennaio, con temperature fino a 20 gradi superiori alla norma. È importante che faccia freddo in inverno per la sopravvivenza di alcuni parassiti invernali importanti per l'ecosistema. L'inverno europeo non è stato mai così caldo, ma secondo gli esperti questo tepore non durerà. Manifestazioni di sostegno alla richiesta di trasferire all'estero per ragioni di salute l'ex presidente della Georgia, Michael Saakashvili, si sono svolte il 4 gennaio in numerose città della nazione europea, nonché in altri paesi del vecchio continente. I manifestanti chiedono la liberazione dell'ex presidente, attualmente detenuto, a causa del grave deterioramento delle sue condizioni di salute. Abbiamo deciso di unirci a questa protesta globale legata alle condizioni dell'ex presidente della Georgia. La manifestazione è stata lanciata dai nostri amici ucraini e ora la mobilitazione è in corso in diversi paesi. Ciò che chiediamo è di salvare una vita, di salvare Michael Saakashvili. Subito dopo il suo ritorno dall'Ucraina, l'ex leader Georgiano è stato incarcerato e sta scontando una pena di sei anni per abuso di potere. I suoi sostenitori tuttavia ritengono che le decisioni della corte siano dettate da motivazioni politiche. Dopo uno sciopero della fame durato diverse settimane, le sue condizioni di salute hanno iniziato a peggiorare. Medici locali e internazionali affermano che Saakashvili soffrirebbe di una forma degenerativa di demenza. Alcuni di loro ritengono che ciò possa essere collegato ad un presunto avvelenamento da metalli pesanti. Nonostante ciò le autorità georgiane non ritengono critiche le condizioni di salute dell'ex presidente. Dal loro punto di vista, Saakashvili sarebbe soltanto cercando di ostacolare i procedimenti giudiziari a suo carico e ingannare la società e i partner internazionali. Ora la pressione sta aumentando sulla presidente della Georgia, Salome Zurabishvili. Sono già alcune settimane che si tengono manifestazioni davanti al palazzo presidenziale alle quali partecipano cittadini, politici, attuali ed ex diplomatici, nonché medici georgiani. Tutti chiedono alla presidente della Georgia di graziare l'incarcerato Saakashvili, sottolineando come le condizioni di salute dell'ex capo di Stato peggiorino di giorno in giorno, il che potrebbe anche portare alla sua morte. Il Consumer Electronics Show, la più grande fiera tecnologica al mondo, torna a Las Vegas. Il nome, esposizione dell'elettronica di consumo, non deve però ingannare perché al CES quest'anno vengono presentate numerose invenzioni tecnologiche che puntano ad aiutare il mondo a risolvere le sue più grandi sfide, dall'inquinamento dell'aria alla salute, fino all'accesso all'acqua pulita. Ritengo che pensare alla tecnologia applicata a degli scopi rappresenti un ottimo approccio, in particolare per il bene comune e il miglioramento delle nostre vite. L'innovazione nel campo della tecnologia sanitaria rappresenta una prova a riguardo. Molti dispositivi sanitari sono infatti dotati di sistemi di intelligenza artificiale integrata, come nel caso di questo rilevatore di virus tascabile. Questo è il Virawarn, il primo rivelatore al mondo di Covid influenza attraverso il respiro. Fornisce un risultato in meno di 60 secondi, basta soffiare nel dispositivo due volte e si riceve il risultato attraverso un LED posto nella parte anteriore del dispositivo, rosso nel caso si risulti positivi, verde se si è negativi. Questo esoscheletro invece può aiutare gli operatori sanitari o gli operai a passare facilmente dalla posizione retta a quella seduta, senza bisogno di una sedia. È molto rilassante, sì, è comodo. Altro grande tema affrontato è quello del metaverso. Molte aziende svelano le loro ultime offerte in materia di realtà virtuale e aumentata. Sono in mostra in particolare molti visori, ma non tutti pensati per il metaverso. Questa ad esempio è una maschera per la privacy. Puoi creare la tua bolla sonora, il tuo discorso è da avere garantita la tua privacy, che significa non disturbare gli altri, ma anche non condividere informazioni che magari si preferisce mantenere riservate. Lascia che ti mostri come funziona. È vero, non si sente nulla. Ci sono poi molte altre invenzioni strane e bizzarre in mostra al CES, dal golf al pungible intelligenti, passando persino per dei pattini elettrici. Gli organizzatori si augurano che lo show sia sul solco di quelli pre-pandemia. Si prevede che circa 100.000 persone si recheranno qui con l'obiettivo di scoprire per primi le ultime innovazioni e i gadget tecnologici più divertenti.